se credete di poter vivere su una palla rotante con una presunta atmosfera rotante e muovervi sia verso est che verso ovest con la stessa quantità di energia siete fuori di senno non siete mai stati dentro un fiume provate ad entrare dentro un fiume e galleggiare contro corrente in parole povere muovervi insieme con l'atmosfera e magari nuotare contro corrente poi giratevi e provate a nuotare nel verso della corrente e non vedete a raccontarmi che ci vuole la stessa quantità di energia in entrambe le direzioni è da fuori di testa quando parlate di questi fatti ovvi se credete a quello che vi raccontano è solo per insultarvi e dirvi quanto siete stupidi non sanno mai portare una prova scientifica per confutare ciò che è ovvio a disposizione la magnifica playlist aerei con quasi 70 video per iniziare a comprendere quante altre cose false vi hanno iniettato con la garanzia della scuola dell'obbligo